Sono iniziati nella Biblioteca Arnoni dell'Ordine degli Avvocati all'interno del Tribunale di Cosenza gli incontri della sezione distrettuale di Catanzaro dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, targati 2015. Il tema del primo appuntamento infoformativo è stata la riforma delle affiliazioni dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale nell'ottica del diritto alla bigenitorialità del minore. Una nuova normativa infatti istituisce la responsabilità genitoriale a quella che prima era la potestà genitoriale. Una responsabilità introdotta dal decreto legislativo 154 del 2013 è riscritta negli articoli 315 del Codice Civile dove da un lato vengono delineati meglio i doveri dei genitori verso i figli mentre dall'altro si definiscono i doveri dei figli verso i loro genitori. Un bambino ha bisogno di tutti e due i genitori perché purtroppo spesso in casi di separazione e divorzi uno dei due o tutte e due non vogliono capire che ci si può lasciare con me marito e moglie come compagni ma sicuramente non come genitori perché si ha la responsabilità di esserlo per tutta la vita e nel modo più idoneo possibile per il benessere psicofisico, per la serenità di questa creatura che hanno messo al mondo e di cui quindi hanno la responsabilità, diciamolo di nuovo, a 360 gradi. È importante, è un segno di civiltà, essere passati dalla potestà genitoriale, quindi da un potere, una potestas al concetto che già era presente in quasi tutte le legislazioni europee e internazionali di responsabilità genitoriale per evidenziare effettivamente quella che è la funzione di un padre e di una madre nei confronti di un figlio che non è un potere ma è un insieme di doveri che si hanno verso il figlio che hanno messo al mondo.